La seduta del 12 giugno Relazione del difensore civico Attività sanitaria nelle carceri Sette giorni in consiglio Dopo le interrogazioni e le interpellanze, nella seduta del 12 giugno, il difensore civico regionale ha illustrato all'Assemblea la relazione annuale dell'attività svolta nel corso del 2011. Il Consiglio regionale ha poi discusso sulla richiesta di invio in commissione redigente del disegno di riforma del CSI.